Heinz Hager, rappresentante della società ora proprietaria dell'area ex Cattoi, ha depositato ieri negli uffici del comune di Riva del Garda e in quelli della comunità dell'Alto Garda e Ledro una nota relativa al piano attuativo scaduto oggi sulla carta ma secondo la proprietà ancora in vigore. È stato più volte sottolineato che la documentazione sino ad oggi depositata negli uffici pubblici porta la firma dei curatori fallimentari della Lacos e solo a margine quella di Hager. Il commercialista ha chiarito che il passaggio di proprietà è in fase di definizione. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare, ha detto Hager. Il giudice ha firmato il trasferimento di proprietà e la registrazione dell'atto in corso di definizione. Il comune di Riva del Garda ha sei mesi di tempo dal giorno del deposito del piano di comparto, ovvero il 24 febbraio scorso, per fornire una risposta alla proprietà. Hager però si aspetta di ricevere il parere ben prima della metà di agosto. Resta aperta la questione delle opere di urbanizzazione che secondo il piano dovevano essere realizzate entro la scadenza. I progetti e l'opinione di Hager li doveva presentare il comune, non la proprietà. Per quanto riguarda la tempistica, Mosaner non replica alla provocazione di Hager. Quando gli uffici completeranno le valutazioni, ha commentato il sindaco, verrà comunicato alla proprietà.